Anche le donne lucane sono scesi e rimpiazze in occasione della giornata di protesta contro il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, denominata se non oggi quando. A Potenza e Matera, le manifestazioni hanno visto la partecipazione di uomini e intere famiglie. Ed è scesa in piazza anche la presidente della Commissione Parità e Pari Opportunità, Antonietta Botta. La sua presenza ha suscitato il disappunto del consigliere del PDL Mario Venezia che in una interrogazione urgente al presidente del Consiglio regionale Folino ha chiesto un suo intervento per censurare e invitare la presidente della Commissione a rassegnare immediatamente le dimissioni. E' perché la presidente della Commissione Pari Opportunità, eludendo a quanto disposto dalla legge che regola l'istituzione della Commissione, ha partecipato in nome e per sconto della Commissione stessa ad una manifestazione politica contro il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. arbitrariamente perché non ha avuto la sensibilità di convocare tutta la Commissione e chiedere il parere delle commissarie. E noi abbiamo sentito anche la risposta della presidente della Commissione Parità e Pari Opportunità, Antonietta Botta. Certo, certo, ma oltretutto voglio dire non c'è un'adesione formale o un atto formale per il quale la Commissione ha aderito. Io penso di essere una persona libera in questo paese e di poter aderire ad una manifestazione. Grazie a tutti.